Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. Questo è il primo di una serie di video in cui parliamo di accorgimenti per poter utilizzare Linux Mint anche per esigenze lavorative da ufficio e di produttività. In questo primo video diamo un'occhiata a LibreOffice, la suite di programmi inclusa con l'installazione di Linux Mint. Un paio di accorgimenti, poi vediamo backup o meglio sincronizzazioni di cartelle, di file e documenti da e verso un'unità esterna USB. Una soluzione per fare backup e una per il lavoro in mobilità. Un discorso su Linux Mint per lavoro non può non cominciare con una presentazione rapida ma doverosa della suite LibreOffice preinstallata con Linux Mint, prima alleata per poter utilizzare Linux Mint anche per l'uso lavorativo e con alcuni accorgimenti particolari per migliorare la compatibilità con i pacchetti Office di Microsoft. Se vuoi usare Linux Mint per lavoro non potrai fare a meno di cimentarti con Writer e Calc, equivalenti gratuiti ed open source di Word ed Excel. Io ho utilizzato Writer per elaborare lunghe relazioni con note, indice, riferimenti incrociati, sempre con ottimi risultati. Anche Calc, l'equivalente open source di Excel, una volta compresa la differente sintassi delle funzioni, si rivela efficacissimo. Ho ottenuto fogli con calcoli complessi, in modo intuitivo o ricavando dalla guida integrata tutte le informazioni necessarie. Non è meno degno di nota Draw, potente programma di disegno che consente anche di realizzare brochure, con cui ho realizzato ad esempio le infografiche nel confronto Windows 10 contro Linux Mint e sulle scorciatoie di tastiera di Linux Mint. Infine c'è Base, il sistema di database che replica Access ed è compatibile con JDBC, ODBC, MySQL ed altri. LibreOffice è dotato di ottimo supporto e c'è una disponibilissima comunità di utenti pronta a rispondere, anche in italiano, a qualunque domanda, per il puro piacere della condivisione. Se serve c'è anche un apposito spazio con la documentazione in PDF, ma molto spesso, dall'interno di uno dei suoi programmi, basta premere il tasto F1 e digitare qualche parola chiave per ottenere dalla guida incorporata gli argomenti più rilevanti, che sono sempre spiegati rapidamente ed in modo impeccabile, consentendo quindi di risolvere rapidamente un eventuale stallo. LibreOffice è compatibile con tutti i formati supportati da Microsoft Office. Sarai quindi in grado di aprire qualunque documento precedentemente realizzato con Word, Excel, PowerPoint, eccetera, e salvare, se vuoi, i tuoi nuovi documenti nello stesso formato. Puoi anche far adottare automaticamente a LibreOffice i formati Microsoft, quando salvi un documento, cambiando il comportamento predefinito che li salva nei rispettivi formati ODF, Open Document Format. In una qualunque delle applicazioni della suite LibreOffice vai alla voce Strumenti, Opzioni, oppure con la combinazione di tasti Alt più F12, nel menu. Sotto la scheda Carica Salva, alla voce Generale, troverai Formato file predefinito e Impostazioni ODF. Dall'elenco Tipo di documento, seleziona Documento di testo e da quello Salva sempre come, scegli la voce Word 2007 365. Ripeti l'operazione selezionando per foglio elettronico il formato Excel 2007 365 e per presentazione quello PowerPoint 2007 365. Al termine puoi premere OK per applicare le modifiche e chiudere il menu Opzioni. A seguire Backup, o meglio Sincronizzazioni di file e cartelle o documenti, da e verso un'unità esterna. E' anche una soluzione aggiuntiva che va in senso contrario e consente di riversare eventuali modifiche effettuate nell'hard disk esterno di nuovo all'indietro con il PC originale, senza necessità di servizi cloud, connessione ad internet e solo con programmi gratuiti, modificabili e privi di pubblicità. Io mantengo un hard disk esterno come backup per documenti. Lo sincronizzo periodicamente con il PC, ovvero faccio in modo che ci vengano riversate cartelle e documenti nuovi o modificati e rimossi quelli che ho eliminato dal PC. Uso questo hard disk, formattato NTFS e quindi compatibile anche con dispositivi Windows, anche quando devo lavorare in mobilità con il portatile. Posso così modificare o aggiungere documenti direttamente al suo interno e sincronizzarlo successivamente con quello principale nel PC fisso, senza necessità di connessione ad internet, senza ricorrere a servizi cloud e senza impostare backup con Timeshift. Uno dei programmi più noti per questo genere di applicazioni in ambiente Linux è R-Sync, usato anche da Timeshift per i cosiddetti snapshot di sistema. R-Sync è infatti integrato nell'installazione di Linux Mint in tutte le edizioni. Si tratta di un programma a riga di comando, non adeguato a principianti di Linux, ma nei repository di Linux Mint e Ubuntu viene fornita un'interfaccia grafica con i comandi più utilizzati di R-Sync in una apposita applicazione. G-R-Sync. Se ti interessa l'idea di poter fare backup o sincronizzazioni di file e cartelle dal PC o tra PC ed un supporto esterno come hard disk o chiavetta USB, ti consiglio di avviare il gestore applicazioni di Linux Mint o il software center della tua distribuzione Ubuntu ed installare G-R-Sync. Avviato G-R-Sync, crei una nuova sessione, ovvero operazione di sincronizzazione, premendo il pulsante più e assegnandole un nome. Poi è davvero semplicissimo, premi il pulsante apri accanto al primo campo vuoto per indicare il percorso dell'intera cartella o di un singolo file sorgente. Procedi allo stesso modo per selezionare il dispositivo di destinazione. Nota che se intendi copiare un'intera cartella non dovrai ripetere il nome della cartella stessa nel percorso di destinazione o ve ne troverai un'altra con lo stesso nome dentro. L'intera cartella documenti sarà copiata nella chiavetta Ultra 64. Potrebbe interessarti mettere il segno di spunta accanto alla voce Cancella nella destinazione. Così facendo, se nel dispositivo di origine eliminerai qualche documento, sarà eliminato anche dal dispositivo di destinazione al momento della sincronizzazione. Anche le voci Ignora esistenti o Salta nuovi potrebbero interessarti. Adesso la sessione è pronta e puoi simulare il comportamento di una sincronizzazione, cosiddetto dry run, senza eseguirla effettivamente. Premi sul pulsante azzurro Informazioni e GRSync ti mostrerà le operazioni che potrebbe eseguire. Premi invece sul pulsante dell'ingranaggio per compiere l'effettiva sincronizzazione e la copia ed eliminazione dei file secondo le impostazioni. Durante le operazioni GRSync fa una stima dei tempi richiesti per completare l'operazione e ti mostra un resoconto di ciò che stai facendo. Puoi procedere creando una sessione per ciascuna delle più importanti cartelle di file o singoli file di cui intendi mantenere una copia. Se, come me, vuoi poter modificare il contenuto della copia esterna e sincronizzarne successivamente lo stato nel computer da cui provengono originariamente, potrai creare nel PC principale delle sessioni di ritorno. Imposterai come sorgente il dispositivo esterno e come destinazione la cartella del PC. Bene, è tutto. Nel prossimo video vedremo come installare una stampante multifunzione di varie marche in Linux Mint, potendo usare lo scanner ed effettuando già scansioni semplici con un programma incluso nell'installazione di Linux Mint. Ricorda di iscriverti al canale se vuoi sapere quando pubblico un nuovo video. Grazie per la tua attenzione e alla prossima. Ciao! Grazie per la visione!